ci troviamo sul luogo di questo immenso rogo che si è sviluppato ieri sera poco prima del ponte margherita fra alife e dragoni come potete vedere c'è ancora molto fumo sul posto sono ancora presenti i vigili del fuoco e i carabinieri l'aria è assolutamente irrespirabile anzi ci hanno invitato a tenerci a distanza proprio per questo motivo è una situazione abbastanza critica non sappiamo le cause di questo ruogo presumibilmente saranno state innescate da qualcuno da qualche piromane comunque adesso i vigili del fuoco stanno tentando di spegnere gli ultimi focolai e si pensa che in giornata la situazione dovrebbe quantomeno ritornare a una parziale normalità comunque la situazione al momento è assolutamente critica perché vi ripeto l'area è assolutamente irrespirabile